Saludatore direttamente da Loasi Park abbiamo appena assistito alla storia il grandissimo Tony Esposito! Ciao! Una grandissima sorpresa, stai in tour e oggi è la prima giornata che parte il tour, perciò preparatevi, diciamo dove sta il tour, dove... Allora, tra due giorni sono in Calabria, Sicilia, Modena, Venezia e forse vengo di nuovo a Roma alla festa a Roma alla Notte Bianca. Alla Notte Bianca! Noi ti aspettiamo... Il 12 agosto alla Notte Bianca all'Ippodomo di Capalletta. Dai, cerchiamo di assercizioni di Napoli! Salutiamo tutti i tuoi fanze, salutiamo tutta Napoli! Ciao! Ciao! Grazie!